Fighetti! Volete anche voi vincere una skin, un ballo o un piccone? Bene, iscrivetevi a questo canale, lasciate like a questo video, nei commenti, un commento veramente ignorante, tipo il mio cane ha mangiato il mio gatto. Seguitemi su Instagram perché la rilascio il nome dei vincitori del contest, Sykes-tm, e buona visione! Buongiorno a tutti fighetti, questa Sykes è tornato in questo nuovo video perché oggi faremo una challenge, ma come sempre per iniziare ogni video ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi anche al canale, attivate la campanella. E nulla regà, se nella prima partita del giorno riusciamo ad arrivare in top 5, non dovrò shoppare nello shop da bendato, ma se non arriviamo in top 5, dovrò bendarmi con la webcam e shopperò da bendato su Fortnite, e nulla regà, allora startiamo questa partita in singolo. Ok regà, proveremo ad arrivare in top 3, nel caso non arrivassimo in top 3, mi tocca shoppare totalmente a casa su uno shop, no regà, no, no, prego no, butterò i back praticamente, perché prenderò cose che sicuramente non mi piaceranno. Non lo so, andiamo a Corso Commercio, vai vai andiamo a Corso Commercio, regà, regà, vi ricordo di lasciare un bel like, seguitemi anche su Instagram, Sykes-tm, e nulla regà, andiamo a Corso Commercio. Ovviamente regà, questo video l'ho registrato oggi, e nello shop di oggi ormai ho shoppato tutto, quindi domani registrerò l'altra parte di video dove shopperò da bendato, perché ovviamente nello shop di oggi ho shoppato tutto, perché sono uno shoppone, molto shoppone, però sapete, regà, buttare V-Buck per roba che non ti piace è un po' uno spreco di V-Buck, quindi non vorrei che fosse così. Ok, prendiamo questa casa qui, intanto non vedo molta gente, in realtà non vedo nessuna, sì, forse in quella casa là ce n'è uno, ok, vabbè, ce n'è io in questa casa, qua, spacchiamo, ok, c'è una bella cassa, dai, cosa ci dai, vabbè, dai, doppie pistole, ma contentiamo, ci accontentiamo, va bene, una shield, ok, 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 ci operiamo questa cassa di munizioni, ci beviamo, ci beviamo, magari troviamo sotto degli scudini, vediamo, dai, 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 no, niente, ci beviamo, abbiamo questo shield, quindi regà, se non arriviamo in top 3, mi tocca shoppare, a caso, quindi vediamo se riusciamo a arrivare in top 3, ok, qua, passi, passi qua, dentro di passi, sotto, 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 guarda qua sotto, scusate, oh, ok, regà, è qua sotto, regà, è qua sotto, vabbè, l'abbiamo mangiato queste, regà, non li sparavo bene, perché regà, non capivo dove, dove fosse, perché con queste granate puzzolenti, non capivo dove fosse, però ho fatto bene a lanciarle, così l'ho fatto uscire da lì, quest'anno non usciva, camper di merda, ok, c'è un altro, è in questa casa qua, è qua, è qua dentro, ecco qua, ecco qua, ok, ok, mi spiego un altro, adesso, ci prendiamo questa caccia qua, ok, non capisco dove mi hanno sparato, regà, non ho capito dove mi hanno sparato, ok, da qua c'è un altro, eccolo qua, qua, ok, 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 ragà, scusate se non ne intrattengo molto, ma, sto provando a concentrarmi, ok, qualcuno ha jumpato, ce la stiamo giocando easy, ce la stiamo giocando easy, che regà, non c'è molta gente, cioè, in realtà, non c'è quasi un cane, vabbè, non ci fanno i materiali, perché ne abbiamo bisogno, strano che non c'è nessuno, regà, comunque abbiamo partito, con tre kill, e boh, ci siamo stoppati lì, siamo andati via da, sento degli spari, degli spari, sono sentiti di qua, sempre di sì, eh, bene, regà, siamo andati via da, da corso commercio, che non abbiamo più trovato gente, regà, cioè, boh, impressionante, regà, proprio quando faccio i video, perché quando, regà, gioco normalmente, cioè, mi giro, trovo quattro persone che mi guardano, cioè, boh, vabbè, gg, cioè, no, gg è un cazzo, però, vabbè, gg, poi, regà, adesso i giocatori, se c'è, proprio se la mangiano, lo vedete, siamo già in 25, cioè, regà, già in 25, bel, belind, belind, ok, ma c'è che ha, uno, da dietro, ok, hai visto, non tratta la hit, non c'è che, non, non, non voglio crederci, vabbè, pushiamo, no, non l'ho preso, non ci credo, non l'ho preso con la trappola, e così no, eh, e vabbè, beh, regà, mi ha spagato il buco del culo, questo, non so come cazzo ha fatto, però, vabbè, gg per lui, dai, eh, regà, è così, mi tocca scioppare da bendato, eh, top 20, è schifo, regà, che schifo, però, vabbè, dai, non ci tocca scioppare, ok, regà, quindi noi ci gireremo dall'altra parte, e sciopperemo totalmente a caso, su Fortnite, ok, regà, questo qua sarà uno spreco di bbacca assurdi, ma, mi tocca farlo, per sé scommesse, quindi, non mi tiro indietro le scommesse, quindi lo faccio, regà, andiamo subito a scioppare il primo oggetto, tre oggetti dobbiamo scioppare, ok, regà, ci siete? Via, ok, sto switchando a caso, tappo anche così, se volete, stop, X, non so cosa sia, non so cosa sia, quadrato, non so cosa ho comprato, regà, però, vabbè, niente, poi, regà, facciamo rotondo, che usciamo da, sicuramente, dalla schermata, che regà, non so, non so cosa ho comprato, ok, regà, proviamo a fare anche la seconda, regà, ci siamo, ok, switchiamo, 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 ok, ok, regà, sto guardando la telecamera, quindi non so assolutamente guardando la tv, ok, quadrato, regà, non so cosa ho scioppato, regà, non so cosa ho scioppato, ok, ok, facciamo il triangolo, rotondo, per, ok, regà, se lo vetti con l'ultima cosa, regà, l'ultima cosa che andranno a scioppare, regà, ci siamo, ok, lo switchiamo a caso, ok, regà, guardate, vedete, regà, se lo switchiamo a caso, ho comprato l'ultimo oggetto, regà, ho comprato l'ultimo oggetto, non so cosa ho comprato, vediamo subito, che schifo, beh, questo qua ci sta? No, cosa fa schifo, no, che schifo, vabbè, dai, sono più anche buttati questi, regà, buttati, proprio buttati, e vabbè, dai, regà, capita, che regà, anche per questo, vi lasciate un like, perché ho buttato di viva, che noi, regà, ci vediamo ad un prossimo video, bella, grazie, grazie, e, Grazie a tutti.